Capito? Questi tutti sono levi. Ti puoi fare. Mettiti a terra. Ancora una volta attenzione proprio come io faccio. Lui ti controlla. Vedi? Anche questo. Lui può mettersi in gambero. Così. Per me è importante inserire i bracci di là. Anche se lui mi spinge. Presa già pronta. Vedi? Io vado pian piano. Posso anche cadere fuori di qui. Posso cadere. E pian piano ti spoco. Basta che attacchi. Faccio questa presa. Poi... Stam qui. Come... Guarda è abbastanza forte. Stam qui. Vedi? Io devo... Adesso non sto tanto bene. Vedi? Io posso fare da pucio. Stam qui. Vedi? Vedi? Hop, 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 hop. Solo a metà strada. Vedi? Hop, 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 hop. Siamo a metà strada. Per a qua controllo. E pam. E ne si lezbidiši. Strati sinistri, com' raga. Poi, pam, pam. E... qui. Ti alzo. Poi posso chiudere bene. Ti alzo e vado. Vedi? E non va. Torno. Voi mi spingi. Io vado qui. Hop. Sono a metà strada. Gomito controllo. Polso. Qui. Inserisco. Giri. Con questo spingo verso terra. Vedi? Non ti permetta che tu ti giri. Puoi andare anche con pancia giù. Vedi? Hop. Torno. Vedi? Oh. Vedi? Oh. Vedi? Poi unire braccia. Vedi? Hai unito. Sì. Io interisco ginocchio. Ah, i apri. Ti tieni bene. Vedi? 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 E vado. Sì, sì, sì. Hai capito? Hai capito cosa fai? Sì. Uzo. No forte. Uzo. Leve. Explosività. Capito? Lo faccio in un modo abbastanza motivato. Sì. Basta chimitri. Ancora una volta vai a terra. Sì. Contesta. Sì. Vedi? 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 controllo Sì, puoi andare qui, qui, così, stai libero qua, ci tieni, stai qui, controlli, stai libero, tieni i bracci uniti, non ti permette, vedi? Controlla la tirale punta, vedi? Ti spingi, 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 hop, uscito, ecco, vedi? Hop, hop, metà, controllo di gomma, Stai libero? Ti puoi fare anche? Da! Puoi dire, hai bani? Ti spingi, vedi? Sì, vedi? Grazie a tutti